benvenuti in questa guida top 7 barbecue a carbone di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo utem barbecue goditi l'attimo super perfetto per bbq festa da 5 10 persone con questo leggero b barbecue a carbonella puoi stare insieme con i tuoi vediamo la nostra valutazione 5 stelle nella qualità generale nell'offerta assegniamo 3 stelle 3 stelle per le caratteristiche assegniamo 5 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 79 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo app dimensioni xxl griglia smaltata removibile da 56 x 41,5 cm p griglia di mantenimento da 53,9 x 24 via ecco cosa pensiamo la qualità generale raggiunge 3 stelle un'offerta conveniente con particolari caratteristiche risulta tra i top nel rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 80 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo b 40 barbecue b 40 barbecue umbria legna e carbone cruccolini vediamo la nostra valutazione una qualità generale buona offerta imperdibile grazie allo sconto con una straordinaria funzionalità 3 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 78 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare brigros non rinunciare al divertimento di un grill all'aperto con amici e famiglia e diventa la vera star della serata con il nuovo barbecue a vediamo il nostro parere nella qualità generale assegniamo 5 stelle 5 stelle per la promo sconto con caratteristiche quasi al top sommariamente ottimo il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 83 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo brick outlet barbecue barbecue griglia carbone carbonella 101 per 75 per 94,5 centimetri idele fino a 6 ottavi persone sbocchi laterali per l'aria vediamo la nostra opinione qualità generale davvero eccellente ottima offerta online con una funzionalità eccelsa 3 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 88 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo te pro 1164 griglia smaltata removibile superficie k 56 per 41,5 centimetri superficie di riscaldamento k 50 ecco la nostra valutazione una qualità generale eccezionale valutiamo l'offerta 3 stelle con particolari caratteristiche per il rapporto qualità prezzo diamo 5 stelle il nostro punteggio generale è di 94 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica weber compact coperchio e paiolo rivestiti in porcellana due manici duro plast in nylon rinforzato in fibra di vetro griglia con tre strati di nichel e ecco il nostro parere un eccezionale qualità generale 3 stelle nell'offerta per le funzionalità raggiunge 4 stelle eccezionale il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale